Il ciclismo è uno sport strano, perché è uno sport di singoli, perché poi alla fine a vincere è un ciclista, tranne qualche rara prova a squadre, ma è anche uno sport in cui un singolo ciclista difficilmente può farcela da solo, soprattutto a livello professionistico, quando è necessario che ad accompagnare il campione che poi taglierà per il primo traguardo o vincerà la grande corsa a tappe, ci sia una squadra, una squadra fatta di gregari. Ora, la figura del gregario è un qualcosa che in qualche modo mi ha sempre affascinato, una persona che decide di mettere da parte le proprie aspirazioni sportive, peraltro legittime perché parliamo comunque di grandi sportivi, per mettersi al servizio di qualcun altro. Talvolta, semplicemente perché sta ancora crescendo, deve mettersi in mostra, deve cercare di farsi, come si dice, di imparare dai campioni già affermati, altre volte perché invece si è reso conto che più di un certo livello lui non riesce a raggiungere. E allora, prendendo il tutto anche come un vero e proprio lavoro, si mette a servizio di chi quel livello invece lo riesce a superare, riuscendo a raggiungere risultati migliori. Ora, quando bisogna vincere con una squadra fatta di gregari, quando bisogna vincere con una squadra fatta di sportivi che avrebbero nell'anima la voglia di essere loro a primeggiare, ovviamente bisogna essere sicuri di chi accompagna, bisogna essere sicuri della loro fedeltà, bisogna essere sicuri che all'ultimo momento, quando dovranno farsi da parte per lasciare passare il campione lanciato verso la volata, lo facciano veramente. Ma succede sempre così? Cioè va sempre tutto bene? Beh, in realtà no, in realtà no. E oggi, grazie al materiale che mi ha mandato Fabiano Ghisleri, che sta diventando un habituè di questa serie, ringrazio tantissimo perché mi manda veramente tantissimo, ottimo materiale, oggi, grazie al suo materiale, andremo nel passato del ciclismo, ai mondiali del 1963, quando un gregario all'ultimo momento decise di non spostarsi, scatenando un putiferio di polemiche e soprattutto un soprannome, un epiteto, quello di traditore, che per anni si portò dietro. Quindi, sigla, come sempre se non siete ancora iscritti al canale, fatelo, così almeno non vi perdete le prossime pillole di sport, e poi iniziamo a raccontare. Se dovessimo trovare un nome che rappresenti il ciclismo all'inizio degli anni Sessanta, quel nome sarebbe quello di Jacques Anquetil. Anquetil era francese e, come da buon francese, era specializzato nel Tour de France, che in quegli anni letteralmente dominò, vincendolo cinque volte, un record che ancora oggi, condiviso con altri ciclisti, regge come record di vittoria nel Tour, ma soprattutto vincendolo all'inizio degli anni Sessanta per ben quattro volte di fila, un dominio totale che sembrava non poter finire mai. Anquetil correrà anche al giro, vincendone due peraltro, quindi non con scarsi risultati, ma in quegli anni il giro era un po' più combattuto, perché a vincere nel 1962-63, facendo una doppietta a due anni di fila, sarà invece Franco Balmamion, che diventò famoso non solo per questa doppietta, ma per essere riuscito a vincere due volte il giro senza aver mai vinto nessuna tappa. Ecco, i grandi giri, dopo tutto, erano un po' così. C'era chi vinceva le tappe, chi scattava in montagna, chi era bravo come velocista, ma alla fine, a vincerli, era quasi sempre quello che riusciva a fare bene un po' di tutto, che riusciva ad ottenere magari i migliori risultati in una di queste specialità, ma che poi riusciva ad essere costante nelle varie tappe. C'è sempre stato però un altro aspetto del ciclismo professionistico, anche del ciclismo direttantistico per carità, ma che nel professionismo in qualche modo viene, rinenta più visibile, cioè le grandi corse di un giorno. Cioè quelle corse in cui, invece di dover essere costanti, invece di dover dimostrare per giorni e giorni di essere il migliore, il ciclista deve letteralmente buttare il cuore oltre l'ostacolo, deve riuscire a concentrare tutte le sue forze, tutta la sua voglia di vincere, in un unico grande sforzo. Uno sforzo che a volte dura un'intera giornata, a volte dura lo spazio di un'unica volata, una volata di pochi secondi per decidere mesi e mesi di allenamento. Una volata che talvolta si fa su strade con pavè, talvolta si fa su strade bianche, talvolta arriva in salita, talvolta lo si fa su delle strade rese scivolose dalle foglie autunnali che cadono e creano quella melma su cui le bici rischiano di scivolare, delle corse che per il loro stesso nome, per la loro antichità, in qualche modo sono diventate dei simboli. La Milano-Sanremo, la Parigi-Roubaix, la Liegi-Baston-Liegi, la Parigi-Tour, il Giro di Lombardia, delle corse che, anche se sono forse meno note tra i non appassionati rispetto al Giro, rispetto al Tour, hanno però quello spirito del ciclismo d'altri tempi. All'inizio degli anni Sessanta, se volevate scegliere un nome da associare a quelle corse, di nome ce n'era uno solo, ed era quello di Rick Van Looij, belga. Ora, Rick Van Looij è ancora oggi uno dei più grandi ciclisti su corse di un giorno che si siano mai visti, uno dei pochissimi ad aver vinto tutte e cinque le corse Monumento, quindi le corse più importanti di questo genere, ma addirittura l'unico ad aver vinto le otto corse considerate più importanti, l'unico ad aver fatto questo intero filotto. Era chiamato l'imperatore di Erentals, cioè il luogo in Belgio, la cittadina in Belgio da cui proveniva, un po' perché era forte e dominava sugli altri, un po' per il suo stile di porsi con gli altri corridori, anche con i suoi compagni di squadra, che letteralmente dominava, a cui imponeva la sua presenza, imponeva la sua volontà, cercando di far sì che tutte le squadre di cui faceva parte fossero costantemente al suo servizio, che tutti i suoi gregari sapessero benissimo che l'unico obiettivo non era far vincere loro, far vincere la squadra, ma far vincere lui. E a vincere, come vi dicevo, era molto, molto bravo. Si racconta che quando era bambino avesse iniziato ad andare in bici per portare il latte, consegnava il latte per guadagnare qualche soldo, gli avevano dato una bici, ma che era troppo grande per le sue dimensioni, e per questo era costretto a lanciarsi su quel grosso mezzo senza paura, pedalando con forza, all'epoca le bici pesavano tantissimo, e in questo modo divenne uno dei migliori corridori della zona, tanto da nominarsi, da premeritarsi, il soprannome di Rick Secondo, quasi a paragonarlo a quello che all'epoca era il miglior corridore belga, cioè Rick Van Stemberger, spero di averlo pronunciato bene. Ora, Rick Secondo, ben presto divenne Rick Primo, Rick Primo perché iniziò a macinare sempre più risultati, vinse le sue classiche, iniziò a vincere anche dei mondiali, lo vinse nel 1960, nel 1961, nel 62, sarebbe stato uno dei migliori candidati a vincerlo, ma si dovette fermare per problemi di salute, e nel 1963, ai mondiali che si sarebbero disputati in Belgio, a Ronse, proprio in casa sua, beh, a quei mondiali era candidato per essere l'unico vincitore. quel mondiale valeva tanto anche dal punto di vista statistico per lui, uomo che, diciamo alle statistiche, fu sempre molto molto attento, anche perché di mondiali, vi dicevo, ne aveva già vinti due, e si trovava a solo un mondiale da quei corridori che in quel momento erano i primi come numero di vittorie, cioè proprio Rick Van Stemberger, quindi Rick 1, e l'italiano Alfredo Binda, che entrambi avevano vinto tre mondiali. Vincere quei mondiali in Belgio, in casa propria, a Ronse, e arrivare così insieme ai più grandi sarebbe stato il coronamento della sua carriera, e chissà che magari negli anni successivi non sarebbe arrivato anche il quarto mondiale a renderlo il più grande di sempre. I mondiali di ciclismo sono effettivamente mondiali, cioè non sono singoli atleti, singoli ciclisti che vanno a partecipare alla gara, ma sono le nazioni che organizzano delle squadre, proprio per questo i mondiali si tengono in posti diversi ogni anno. E così c'è la squadra italiana, c'è la squadra belga, c'è la squadra tedesca, la squadra francese, e ogni anno si cerca di assemblare la squadra migliore, a volte non mettendo insieme i migliori ciclisti, ma scegliendone uno, quello che ha maggiore probabilità di vincere, e costruendogli letteralmente una squadra intorno, perché a mettere troppi buoni ciclisti insieme, il rischio è che invece di collaborare inizino ad intralciarsi fra di loro, e alla fine una squadra con dei nomi meno conosciuti, ma che invece lavora tutta insieme, possa riuscire a primeggiare. Dopotutto, i mondiali di ciclismo si corrono su un'unica gara, e quell'unica gara viene spesso vinta in volata. Proprio per questo Van Loi aveva deciso di costruirsi una squadra che fosse a sua immagine e somiglianza. Come prima cosa aveva deciso di lasciare a casa alcuni degli altri ciclisti belgi più affermati, perché non voleva che nessuno rischiasse di rubargli la sua posizione, nessuno rischiasse di rubargli la vittoria. Dopodiché, aveva assemblato una squadra con dei gregari, alcuni giovani, altri che erano già stati con lui, facendo firmare ad ognuno di loro un accordo che prevedeva che se lo avessero aiutato a vincere quel mondiale, avrebbero avuto un premio. Come dire, se volete guadagnare la vostra paga, volete guadagnare i vostri soldi, non pensate a vincere voi, ma pensate a far vincere me. Nel gruppo, però, non tutti amavano l'imperatore, non tutti amavano il suo modo di fare, anzi qualcuno, come Gilbert Desmè, un altro corridore che prese parte a quella corsa, un altro belga, avevano più che un conto in sospeso con lui. Conti in sospeso fatti di aiuti dati in delle gare che non avevano ricevuto nessun ringraziamento, conti in sospeso fatti al contrario di aiuti richiesti che non erano stati concessi e in generale del fatto che Van Looij tendeva a concentrare su di sé l'attenzione di tutti i media dimenticandosi spesso di ringraziare chi lo aveva aiutato a vincere le gare che lo aveva fatto grande. Secondo qualcuno, iniziò proprio nei giorni precedenti alla gara un sotterraneo movimento tra alcuni dei corridori che costituivano il gruppo belga tra chi diceva che dopo tutto si poteva cercare di organizzare le cose per far sì che Van Looij non vincesse la gara. Non solo che non la vincesse Van Looij magari privato dell'aiuto degli altri ciclisti ma che addirittura a vincere dovesse essere qualcun altro di loro per dimostrare che il ciclismo belga non era solo l'imperatore di Erental. Il giorno della gara però almeno inizialmente le cose sembrarono andare normalmente. La squadra belga riuscì a gestire bene la situazione, altre squadre erano pericolose come ad esempio quella italiana ma i belgi riuscirono a fare quadrato intorno al loro capitano permettendogli di arrivare a pochi chilometri dal traguardo nelle primissime posizioni abbastanza riposato per lanciare l'ultimo scatto e pronto a prendersi quella vittoria. Quando però Van Looij iniziò a cercare il gregario che come lui aveva progettato lo avrebbe dovuto letteralmente trainare nella sua scia fino ad un chilometro dal traguardo per poi permettergli di lanciarsi nell'ultima volata iniziò ad avere difficoltà. iniziò ad avere difficoltà perché qualcuno dei suoi gregari si era progressivamente allontanato altri invece sembravano troppo stanchi non in grado di seguirlo e ne rimanevano solo due a sua disposizione. Il primo era proprio Gilbert Desmet che però quando mancavano 4 chilometri all'arrivo decise di provare a lanciarsi in una volata 4 chilometri sono tanti è difficile uscire dal gruppo e da solo tirare una volata perché 4 chilometri riuscendo ad arrivare primi a meno che il gruppo letteralmente non si suicidi rinunciando a seguire il fuggitivo è una volata che difficilmente riuscirà ad avere successo e probabilmente Desmet lo sapeva benissimo e con quel tentativo semplicemente si tolse da coloro che avrebbero potuto aiutare Van Loi. A Van Loi quindi rimaneva un solo gregario rimaneva un solo scudiero e quello scudiero si chiamava Benoni Behe Benoni Behe era di lontana origine italiana per quello aveva quel nome particolare era il cognome del nonno era un po' considerato il volto nuovo del ciclismo belga era 7 anni più giovane di Van Loi aveva da poco iniziato a mettersi in mostra tra i professionisti dopo aver raccolto tantissime vittorie come dilettante ed era considerato uno in rampa di lancio tanto che molti pensavano che quel di averlo inserito nella squadra belga fosse un tentativo di provare a farlo mettere in mostra per magari un giorno passargli il testimone a Van Loi però di passare il testimone non interessa nulla lui interessa di vincere quella gara e quando arriva vicino a Behe gli chiede se può lanciargli la volata se può mettersi davanti tirarlo per ancora tre chilometri e lasciare che poi lui nell'ultimo chilometro si scateni andando a vincere Benoni Behe però non è tanto dell'idea fa capire al suo capitano che è stanco che ha i crampi che non ce la fa più che mettersi a tirare per tre chilometri è impossibile che anzi rischierebbe ancora di farlo rallentare rischierebbe anzi di intralciarlo e di impedirgli di vincere la corsa è meglio se Van Loi si unisce a qualche altro treno si unisce al resto del gruppo e prova a vincere da solo Van Loi capisce che a questo punto non c'è più nessuno che possa aiutarlo si mette in mezzo al gruppo inizia ad accelerare segue gli altri a ruota recupera i corridori che si erano allontanati uno dopo l'altro e quando manca solo un chilometro all'arrivo decide di scappare ora normalmente i corridori scattano negli ultimi centinaia di metri ma Van Loi era famoso per riuscire a scattare anche a più di un chilometro dall'arrivo e a mantenere una velocità alta e costante che spesso faceva selezione e faceva allontanare uno dopo l'altro gli altri ciclisti e così fece scattò nelle immagini dell'epoca è inseguito da una torma di ciclisti che però nonostante corono nonostante siano appoggiati alla bicicletta che cercano di spingere al massimo della velocità non riescono a raggiungerlo Van Loi è lanciato e un metro dopo l'altro si avvicina a quel traguardo che tanto desidera quando mancano però pochi metri dalle retrovie arriva come un treno un altro corridore è giovane è fresco e sicuramente non ha i crampi quel corridore ebbe Loni Beheite che improvvisamente lui disse si sentì di nuovo in forma sentì di potere dare il massimo e aveva iniziato ad accelerare si era infilato attraverso il gruppo si era fatto strada in mezzo a tutte quelle biciclette che correvano una fianco all'altra velocità incredibile le aveva superate tutte e aveva affiancato il suo capitano quando a pochi metri dalla linea del traguardo Van Loi vide Beheite arrivagli vicino fece una mossa scorrettissima cercò di spostarsi dalla sua destra verso sinistra per tagliargli la strada per bloccarlo per impedirgli di superarlo e Beheite vedendolo arrivare incontro allungò una mano come per spingerlo come per spostarlo rallentandolo per poi con un ultimo slancio di pedali riuscire a superarlo tagliando il traguardo appena tagliato il traguardo Beheite non ebbe neanche il tempo di festeggiare perché Van Loi arrabbiatissimo dopo aver preso la sua bici aveva lanciata per terra gli si fece addosso accusandolo di averlo truffato accusandolo di averlo spinto accusandolo di averlo tradito di aver rubato quella corsa che doveva essere sua in un impeto di rabbia Van Loi corse addirittura dalla squadra belga da coloro che dirigevano la sua squadra chiedendogli di fare ricorso di far sì che venisse strappata la vittoria al suo compagno e che egli venisse assegnata accusandolo di averlo spinto e di averlo in questo modo intralciato ma quando andarono dai giudici i belgi si sentirono rispondere che se proprio i giudici dovevano squalificare qualcuno beh dovevano squalificare in realtà Van Loi che aveva attraversato la pista da una parte all'altra per tagliare la strada facendo una mossa assolutamente irregolare e che alla peggio avrebbero potuto squalificarli entrambi solo che così il belgio invece che di una medaglia d'oro e di una d'argento se ne sarebbe tornato a casa senza nulla sui giornali del giorno successivo Benoni Beite iniziò ad essere definito traditore man mano che Van Loi raccontava la sua versione della storia ai giornalisti poco importava che Beite dicesse che non era vero che lui aveva vinto perché aveva avuto quest'ultimo sprint finale che non aveva spinto il suo capitano che anzi aveva evitato che i due si scontrassero e che non c'era nessun disegno dietro per impedirgli la vittoria alla maggior parte dei giornalisti questo non importava lui era stato pollato come un traditore e un traditore era per tutti Rick Van Loi gli fece letteralmente terra bruciata intorno cercò di convincere forte ovviamente del suo peso e della sua forza politica nel ciclismo cercò di convincere le altre squadre a non prendere più Benoni Beite fra di loro addirittura a volte minacciava gli organizzatori delle corse dicendo che lui non si sarebbe presentato se fosse stato invitato anche Beite che letteralmente ripeto si trovò farsi uno spazio intorno a sé con anche gli sponsor che uno dopo l'altro si allontanarono l'anno successivo forte della maglia arcobaleno di campione del mondo riuscirà a ottenere ancora qualche risultato ma molto rapidamente sarà costretto al ritiro ad appena 26 anni i due avranno delle vite da questo momento in poi completamente diverse Benoni Beite una volta ritiratosi dal ciclismo aprirà un negozio di biciclette poi diventerà poliziotto tornerà nella cronaca sulle pagine dei giornali per motivazioni di cronaca molto molto triste a causa dell'uccisione del proprio figlio a causa di un colpo partito dalla pistola di servizio non esattamente il modo migliore per ricordare quello che era stato un ciclista capace di vincere un mondiale dall'altra parte invece Rick Van Looij continuò la sua carriera continuò a miettere dei risultati ma non riuscì mai a vincere quel famoso terzo mondiale oggi sono entrambi ancora vivi anche se entrambi di un'età decisamente avanzata in un'intervista di qualche anno fa Benoni Beite disse che dopo tanti anni erano tornati a salutarsi forse non avevano mai chiarito la questione forse non avevano mai messo i puntini sulle i ma quantomeno lui disse due o tre volte all'anno si incrociavano si salutavano buongiorno buonasera e nulla di più e poi andavano via perché uno probabilmente continuava a considerare quanto avvenuto la più grande delle ingiustizie fatte ad un giovane ciclista che aveva vinto la sua prima grande corsa l'altro continuò a considerare questa storia quella di un tradimento che gli aveva strappato l'ultima grande vittoria che mancava al suo palmarès direi che con questo è tutto un grandissimo ringraziamento ancora a Fabiano Ghilardi per il materiale che mi ha mandato e per avermi fatto scoprire questa storia di cui ammetto non sapevo assolutamente nulla un grazie a Matteo che come sempre cura le pillole di sport e come sempre anche un grandissimo ringraziamento ad abbonati Patreon e a chi fa donazioni sul conto Paypal perché anche grazie al loro sostegno questo canale riesce ad andare avanti e riusciamo a produrre più materiale a disposizione di tutti in particolare il mio ringraziamento di oggi va ad Alessio Bertucci grazie mille tantissimo per il tuo aiuto per il resto come sempre ci vediamo domani per una pillola di storia ci vediamo martedì prossimo per un'altra puntata di pillole di uomini e sport a presto ciao ciao